Ciao sono Leo, benvenuto sul canale. Oggi voglio parlarti di una pianta ben conosciuta in ambito culinario e per uso domestico, coltivata e utilizzata già nell'antico Egitto e utilizzata dai romani a scopo medicamentoso. E stiamo parlando della menta. Prima di iniziare il video per supportarmi ti chiederei di iscriverti al canale e se il video ti sarà utile di lasciare un like. Ma vediamo subito come coltivare la menta e averla a disposizione tutto l'anno. Questo è uno dei miei vasi di menta. In natura esistono circa 7000 specie, di cui solo 600 sono di natura commestibile. E si va dalla mentuccia classica fino ad arrivare alle menti con retrogusto di limone, fragola, persino al cioccolato fondente. È una pianta davvero tosta e se si trova nelle condizioni ideali a volte diventa anche infestante. Uno dei vantaggi di questo tipo di pianta è la sua lunga stagione di utilizzo. Io infatti riesco ad averla tutto l'anno e se vuoi scoprire come, segui questi consigli. La menta ama vivere in un luogo parzialmente ombreggiato. Al sole non è un problema, l'importante è innaffiarla regolarmente, specie se si trova in vaso. Ama la bella stagione e quindi le temperature che vanno dai 18 ai 25 gradi. Come ho già anticipato, va innaffiata regolarmente, specie se in vaso. Non ama il terreno secco e bisogna fare attenzione ai ristanni idrici. Soprattutto si utilizzano dei sottovasi che possono provocare marciume radicale e quindi problemi alla pianta. In estate è possibile innaffiare tutti i giorni perché con le alte temperature il terriccio si asciuga facilmente, specie se la pianta si trova come nel mio caso in un vaso di terracotta dove la dispersione di umidità è maggiore rispetto ai vasi in plastica. L'irrigazione, mi raccomando, dovrà venire o mattina presto o al tramonto, in modo tale da non causare uno stress termico alle radici della pianta. La menta in vaso rispetto a quella in terra va concimata con un prodotto biologico per piante aromatiche una volta al mese, mentre in inverno possiamo ridurre la dose in quanto la pianta va in riposo vegetativo. Come vi dicevo all'inizio io riesco ad avere la menta tutto l'anno, comunque il periodo migliore è giugno e luglio. Gli erboristi chiamano questo periodo tempo balsamico, do quanto gli oli essenziali sono più concentrati e c'è un alto contenuto di mentolo e c'è una riduzione invece del mentone che dà il gusto amaro alla menta. Il primo metodo consiste nell'andare a prendere le prime foglioline apicali ricche di oli essenziali. Il secondo metodo invece consiste con l'utilizzo di una forbice si va a recidere direttamente gli steli della menta. Possiamo utilizzarla sia per speziare piatti per dargli quel tocco di freschezza oppure per fare delle tisane o altro ancora per uso domestico come antizanzare naturale oppure per la creazione di profumatori naturali. Esistono altri modi per utilizzare la menta e se vuoi conoscere altri metodi iscriviti al canale e se questo video ti è stato utile lascia un like. Con questo è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao